Ho fatto nascere questa attività nel 2011 perché sono stato affascinato dalla malleabilità e dalla tonalità dei colori che questo bellissimo metallo esprime. La mia attività consiste nella ricerca e nella riproduzione di antichi utensili che fanno parte della cultura della cucina salva, senza però trascurare la possibilità di affiancare le antiche riproduzioni ai moderni design. Oltre agli oggetti in rame realizza utensili per il taglio e la decorazione della pasta fresca e per il pane cerimoniale. La mia attività vuole essere anche un modo per far conoscere la bellezza della creatività dei lavori manuali alle nuove generazioni, evitando che questo antico mestiere vada purtroppo perduto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!